e come si vede dallo sfondo questa luminosità è quella della giornata della domenica ma ritorniamo un tema che abbiamo visto giusto ieri sera camminando in borsi a box abbiamo trovato una delle due piloti di rosa catì francese ma anche il nostro bel paese era portato da renata ammigazzi che poi tra le altre cose è un po' una testimonia del quanto da tanto tempo è una degli amici di questa società che chiaramente con la loro partecipazione dello squadro aiuta anche invece renata si porta ogni tanto venito sulla casaica di carmitano le ragazze vengono coinvolte 24 ore infatti non si può stare sempre la fai spiegaci magari per chi ci conosce bene ma chi si vede due belle ragazze così con la tuta quindi si può ridire a vera di questo buon solito purtroppo siamo un po' delle mosche piani nel senso che mi sembra di vedere che ci sono veramente troppi poche donne purtroppo invece avete un piacere contro altre altre infatti ho conosciuto la mia collega francese francese e tempo fa mi sembrava bene scontare di più il campo perché anche mi sono decisamente confrontati con i maschietti quindi non abbiamo una categoria di amici con il tempo e tutto viene a parmi e parmi beh forse andò bene alla casa che stanno iniziando e in una gara così forse sono fatte un po' chi volete agli altri livelli a questa gara quello non potete mai farlo di certo bisogna finire un po' di esperienza quindi infatti si inizia in genere dalle piccole endurance perché non cerchiamo che vanno anche dalle due ore in avanti e affrontarono la 24 ore quindi io ricordo la mia altra domanda da chi è già qui fa e che fu insomma molto emozionante e in effetti non c'è spinto totalmente bene il riposo e l'emozione quindi questo è molto importante insegna a conoscere se stessi tra il quale è vero bene quindi insomma lanciamolo aperto sulle ragazze diamo un occhio inoltre alla suddivore serie c'è il presidente che in Italia e in Europa le altre competizioni si svolgono sul nostro territorio il nord Italia ne è pieno ragazzi fate un occhio perché ho fatto avrò qualche gara di rodaggio e poi le squadre che fattessero queste stupede manifestazioni ci vediamo qua dell'anno prossimo vi aspettano il livello è altissimo grazie Renata ciao